In ambito europeo però, che ci siano stati dei trasporti a lunga distanza, è stato confermato recentemente da un'università tedesca, che c'è stato un comunicato stampa di questa università tedesca, mi pare Heidelberg, ma non ne sono sicuro, non mi ricordo bene, ma l'ho scritto nel libro, in cui si dice che il famoso disco di Nebra è di bronzo con riporti in oro, trovato una ventina di anni fa in circostanze piuttosto complicate, l'hanno trovato insieme con due spade di tipo miceneo, ma le hanno trovate vicino alla città di Halle, nella zona della Germania nord-orientale. Questo disco, esaminato recentemente dal punto di vista metallografico, gli studiosi si sono accorti, di cui il comunicato stampa che cito, che lo stagno che costituiva questo bronzo veniva dalle miniere della cornovaglia, eppure l'oro veniva dalle miniere della cornovaglia, ma la cornovaglia, se andate a guardare una mappa, non è che sta a due passi dalla Germania orientale, presuppone sempre una abilità marittima, dei commerci marittimi a lungo raggio, e infatti io già l'avevo ipotizzato quando ho notato come nella mia trasposizione nordica di Omero, che ho fatto in Omero nel Baltico rispetto all'Ilia dell'Odissea, si parla di un mercato del bronzo, l'unico citato da Omero, che si trova a Temese, Temese al di là del mare, tra genti stranieri e al di là del mare nebbioso, tra genti straniere. E cosa poteva essere Temese rispetto a noi occidentali? Era nient'altro che il TEMS, il Tamigi, perché il Tamigi sta allo sbocco praticamente, potrebbe essere una via fluviale, le cui sorgenti sono appunto in direzione della cornovaglia, dove c'è lo stagno. Lo stagno è molto difficile da trovare, però è un costituente essenziale per fare il bronzo, che a differenza del rame, praticamente è molto dura, permette di fare armi con un bel filo e soprattutto oltre a essere dura è stabile, cioè praticamente non si ossida. Il mercato del bronzo, l'unico citato da Omero, sta a Temese al di là del mare nebbioso tra genti stranieri, cioè il TEMS. Praticamente doveva essere il punto di arrivo dello stagno proveniente dalla cornovaglia. Lì praticamente arrivavano da tutta Europa, diciamo da tutta la Scandinavia, forse anche altrove, a prendersi il bronzo fatto appunto con lo stagno della cornovaglia, come confermato dal disco di Nebra che però è in Germania, e con il rame che magari lo prendevano in Galles o in altre regioni, ma il rame si trovava più facilmente, e poi se ne tornavano a casa praticamente con questo metallo. Per cui import-export di metalli era un discorso importantissimo di questa antica civiltà megalitica. I misteri della civiltà megalitica. Intervista documentario ispirato al libro di Felice Vinci è disponibile fino alla fine dell'anno, gratuitamente e in esclusiva sul nostro blog mepiù.it. Approfittane subito. Trovi il link nella descrizione e se puoi sostieni il nostro lavoro su mepiù.it slash sostieni. Grazie. Dal primo gennaio 2022 la versione integrale rimarrà accessibile per la membership e i sostenitori di mepiù sulla piattaforma mepiù.com. Grazie per aver contribuito a realizzare questo prodotto. Senza il tuo aiuto non sarebbe stato possibile.